Uno dopo l'altro, come i piccoli indiani di Agatha Christie, i top player del circuito maschile sono spariti dalla circolazione in un 2017 falcidiato dagli infortuni. Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Andy Murray, Kenny Cicori ma anche altri dietro di loro. Tutti vittime di problemi fisici dovuti, più che a un trauma, all'usura. Se vogliamo applicare per intera la teoria per cui nel tennis moderno l'atleta è diventato una macchina, allora sappiamo bene cosa succede, quando si lascia una macchina accesa per troppo tempo. Che sia un'automobile o un computer.